Fondata nel 2022 a Boston, negli Stati Uniti, Temu è la piattaforma di shopping online più chiacchierata del momento. L'app di Temu è la più scaricata, la più popolare su App Store Italia. Siamo letteralmente invasi da recensioni di influencer su Temu. A oggi Temu ha collaborato con oltre 30.000 influencer in tutto il mondo. Hanno scritto un camè che ovviamente... ...ho accettato di fare questa recensione per voi. Ciao, sono Ambra, benvenuti sul canale e benvenuti in questo video in collaborazione con Temu. Mi intrigava un casino, Temu, questo store online dove troviamo in realtà tantissimi articoli divisi per ogni categoria a un prezzo davvero competitivo. Oggi sono molto curiosa di dirvi la mia su questi pacchetti che mi hanno fatto ordinare gratuitamente per questo video collaborazione. E non vedo l'ora di andare a aprire tutto con voi, ma prima vi lascio apparire qua sotto il codice sconto che mi hanno offerto. Potete usufruire di questo codice. Devo dire che io stessa, che ho fatto ordini solo nella categoria beauty, sono molto molto incuriosita. Vorrei fare nei prossimi giorni un giro sulla categoria magari casa, home, giardinaggio. Insomma, è un sito immenso. Vi lascio il link diretto a cui ho anche applicato il mio sconto qua nell'info box e nel commento fissato in alto. Posso raccontarvi anche la mia esperienza di spedizione che è stata super super veloce. Cerca una settimana di attesa, non ho avuto problemi quindi in relazione all'ordine, ma ora non vedo l'ora di aprire insieme a voi questi mega pacchi. Vediamo cosa ce ne sembrerà di questo sito. Allora, ho quattro pacchetti. Tra l'altro io amo questi sacchetti, li trovo molto comodi per andare in vacanza, stoccare la biancheria, quella pulita, quella sporca. Quindi sono assolutamente riutilizzabili e la prima cosa che trovo è molto voluminosa ed è un make-up organizer. Eccolo qua, carino. Questo è come si presenta all'articolo, devo dire che mi sembra esteticamente carino, diciamo conforme all'aspettativa e soprattutto al prezzo davvero basso. Quindi ci sta assolutamente soddisfatta. Abbiamo tra l'altro più sportelli. I tre dietro li apprezzo moltissimo perché sono alti. Questo fa sì che io possa contenere magari i miei pennelli sporchi. Qua davanti posso stoccare dei prodotti in polvere. Il primo prodotto per me è un sì. Proseguo! Mi diverte tantissimo fare questa tipologia di video. Tanto apro l'altro pacco e un'altra categoria su cui mi piacerebbe provare a investire qualche soldino è quella tecnologica. Ad esempio, sull'app Temu ho trovato degli articoli che sono venduti ma a un prezzo molto maggiorato su Amazon. Faccio vedere molto velocemente i prossimi articoli che ho scelto e parto da lei. Questa spazzolina mi incuriosiva tantissimo. È praticamente una spazzola che io consiglio in realtà a persone con... No, la consiglio anche a me stessa. Ma tu guarda! Questa è una spazzola che io stavo dicendo consiglio a persone che hanno i capelli un po' più corti. È una spazzola tonda che vi fa, unita ovviamente a capello umido e phon, una piega perfetta. Serve un po' di manualità. Se avete capelli molto lunghi potrebbero intrecciarvisi. Ma l'ho vista in azione da mesi, ha tanti e tanti influencer che seguo e wow, è una figata. Dà un bel giro anche su capello lungo. Bella! Questa è un grande sì, raga. Mi sento come una bambina al giorno di Natale. Ho preso tante cose diverse tra cui anche questo pettine. Questo è un pettine di precisione, perfetto per andare sulla riga centrale o per fare la riga centrale. Insomma, costano poco e questi sono gli acquisti che vi consiglio di fare, secondo me, per quanto concerne la categoria beauty su Temu. Utensili di questo tipo. Ah, abbiamo trovato la Uda! Allora, ho preso un po' di dupe di prodotti beauty, vi dico la verità, perché mi incuriosiva a testare e vedere com'è la qualità. Quindi tenetevi pronti. Questo è un unboxing, ma magari nei prossimi giorni, se vi interessa un qualcosa, posso mettervi in relazione agli originali con i dupe. Ok, vedo già dei brillantini che spolverano un pochino. Sono tanto diverse, però ci stava, insomma. Poi ho preso dei set di spugnette, queste hanno delle sfumature bellissime, sembrano abbastanza morbide. Questo set è carinissimo. Poi ho preso anche quest'altro set, questo è un po' meno morbido delle precedenti e quasi tutti i prodotti beauty che vedrete sono un po' il dupe di qualcosa. Poi ho preso questo aggeggio che può essere molto molto utile, può essere una vaschetta o rientrare. Questo può essere sia un portasapone, per non sporcare con la vostra saponetta il piano d'appoggio, ma anche un pulitore pennelli. Voi inserite i vostri pennelli su queste setoline e si puliscono molto facilmente. Io ho il tappetino di Sigma che avevo pagato tipo 40 euro e questa soluzione mi intrigava particolarmente. Possiamo mettere anche la nostra saponetta e ruotare il prodotto all'interno. Carino. Oh questo, questo prodotto di cui mi stanno offrendo da due mesi una collaborazione pagata, un brand che produce la stessa cosa e io no, non posso accettare una collaborazione pagata perché questi li trovate veramente a 90 centesimi su altri siti. Perché io dovrei consigliarvi un prodotto che ne costa 15? È identico. Questo è un attrezzino molto utile perché serve a fare l'eyeliner, a controllare la sfumatura dell'ombretto. Potete utilizzarlo anche per il contouring, insomma è una traccia stick multiuso, potete anche utilizzarla ben lavata per prelevare la vostra crema. Agevoliamoci con la forbice amici, agevoliamoci. Stavo valutando che tanti dei prodotti che ho acquistato, ecco ad esempio questi pennelli, li possiamo trovare nei nostri negozi di fiducia, quello del cinesino, questi megastore. Ma questo perché Temu va a unire tutti i fornitori, maxi distributori, si garantisce il miglior prezzo da parte loro. Puntando, credo, sulla quantità di vendite. Questo è carino, molto morbido tra l'altro. E questo è un pennellino multiuso, in realtà non è un pennello da eyeliner in senso stretto. L'ho scelto ad esempio per rifinire la codina, anche applicare l'ombretto in questo modo. Poi ho preso un dupe di uno dei miei prodotti preferiti di NYX e io vi tengo aggiornati poi su questi prodotti. Uh, questa è identica. È la colla di NYX, quella che vi consiglio sempre. Questo io l'ho acquistato per capire com'è, magari per realizzarci anche altri contenuti. NYX tutta la vita, raga, però sono tanto curiosa di capire come si comportano questi prodotti dupe. Apriamo anche questo. Sapete che questo video non finirà più, abbiamo un'altra cosa ancora. Questo è un pack tanto, tanto carino. Questo bello, è un mini kit con mini applicatore bronzer. Sono tanto curiosa di... wow! Dai, la polvere è anche ultra fine, anche ultra grappante. Il tutto condito da questo pack, sapore un po' kawaii, un po' giapponese. Non male. Questo è carino, carino, eh. Altra cosa, ah, questo è un utile direttevole. Ho un porta profumi da viaggio. In questi anni ne ho acquisiti decine e persi altrettanto. Aveva un prezzo bassissimo su Temu. Questo è un profumo che si ricarica dal sotto, così che voi possiate portare sempre in borsetta con voi la vostra fragranza preferita. L'ho scelto in questo color rosa che mi piace moltissimo. Questa dovrebbe essere la copia della cipria di Essence ad oro. Ad oro, hanno messo anche la protezione. Su, facciamola. Questa dovrebbe dare un effetto bianchissimo, sembra gesto. No, la tex non è quella della cipria Essence. Altro dupe! Questo è il beauty di un prodotto che mi piace molto, nonostante sia molto emolliente. Ho anche di questo l'originale e dobbiamo assolutamente allora fare il video parte 2. Questo sembra similissimo come tex ormai, anche come colore. Dove mettiamo in relazione, come profumo no, questo sa di fragola chimica. Dobbiamo mettere assolutamente in relazione gli originali che possiedo con queste copie. Vedete potrebbe essere un'idea carina di video? Non male l'effetto. Il profumo è diverso dall'originale. Ah, non vi ho detto l'originale, è di Pixi Beauty, ma lo saprete. Oh! Togliamo subito questo sacchettone che conteneva questa pochette. Questa l'avevo già sbirciata in anteprima, è l'unica cosa che ho già aperto e mi è piaciuta molto. È una pochette con un nome inquietante, è scritto Rose of No Man's Land. È in similpelle, l'ho scelta rosa e all'interno ha anche una bella divisione in questi scomparti. Anche la presa. Questa non mi sembra assolutamente male. E ancora tre mollettone, che carine che sono. Dai belle queste! Queste in estate sono must have, perché patisci il caldo, te le leghi fuori. Poi io queste le perdo tutte, perché i miei gatti giocano con queste pinze. Carina è anche la scelta colore, giallo, nero e questo canna di fucile. Sto meglio coi capelli raccolti, quindi li tengo così, uniamo l'utile al dilettevole. Questo cos'è? Uno stand per pennelli. Lo devo montare, quindi non lo faremo oggi, lo rivedrete prossimamente. Ma è uno stand per tenere su tutti i tuoi pennelli. È una pochette carina, carina. Con tutti i cactus, qualità normalissima, ma grafica carina, simpatica. Ah, e questa è una pochette porta assorbenti. Me ne sono ricordata ora vedendo anche la forma squadrata. Carino questo violetto, fa anche rima, è un altro stand per pennelli. Finiamo l'ultimo busto, intanto fatemi sapere se avete già fatto acquisti su questa app, cosa ve ne pare. E vado con un altro prodotto, questo è un lipstick, trasparente. Buono in profumo in questo caso, carino il packaging. Questi mi ricordano quei prodotti coreani. Omega lipstick, sa di pesca, chimica. Ma sa di pesca. Poi, questo non potevo non prenderlo. È la copia esatta, proprio il dupe, del mascara di Maybelline. Che amo, io amo l'originale. E mamma mia, ma guarda quanto è identico. È dichiarata come edizione waterproof. E io sono anche curiosa di provarli, o questi prodotti, vi dico la verità. Sa di pesca anche lui? O ho ancora la traccia sul mio polso? Una matita con la mina squadrata? Dovrebbe essere una matita labbra. Ne tiro su poca perché ho paura si vada a rompere, ma... Sì, una matita labbra. Abbastanza creamy, abbastanza scorrevole. Il pack è carino, carino. Altro prodotto, lipstick, lip liner. Vediamo, 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 vediamo. Quindi? Quindi è rimasto incastrato dentro. E per scastrarlo fuori l'ho rotto. Andiamo a sistemarlo come possiamo. Sì, quel caldo si è staccato, raga. Ve lo segnalo assolutamente, ma il colore che ho visto mi intriga un casino. Non ha odori particolari. Il colore è molto carino. Vediamo com'è la matita. Wey, che professionalità. Oh, ma non è male questo prodotto. Vediamo un attimo. Abbassiamo la punta che col caldo delle matite, anche la mia di Uda, eh. Non è che serve una bassa qualità per far rompere i prodotti col caldo. Tendono a scomporsi un po'. La matita è più chiara o tono su tono rispetto al rossetto? Non riesco a capire. Comunque, questo ci piace. Trovo altri prodotti e vediamo un attimo cos'è questo. Un mini blush a forma di cuore. Ah, questo l'ho preso perché lo vedo sempre nei contenuti virali. Praticamente lo applichi. Dai, carino. Mi sembra un cremoso, ma che s'assesta. Ci sta. Ci sta. Mi sembra di essere tornata bimba quando avevo i truccosetti. Questo però è un prodotto viralissimo online. Questo è un liquid blush della coppia di Rare Beauty, come facilmente potreste intuire dal pack. Giuro, c'è scritto blush, ma è olografico questo prodotto. È un illuminante. Proviamolo, proviamolo. Molto cremoso, molto brillante. Però lo sento troppo fluido sul viso, quindi secondo me vi sposta la base sotto. Vado con gli ultimi tre prodottini. Abbiamo un mini, mini pennello, che immaginavo un po' più grande, ma ci sta, ragazzi. Cercavo un pennellino da borsetta. Non male questo. Ecco, questo è un mini kabuki a taglio obliquo, che è tattico per aggiustare la base magari fuori casa e da tenere proprio nella pochettina. Avesse avuto anche un coperchio chiusura, sarebbe stato perfetto. Comunque, questo è un sì. Ultimi prodottini, raga. Questo mi intriga un casino. È un so brown. Una saponetta per sopracciglia. Questa, secondo me, mi darà grandi, grandi soddisfazioni, anche perché, voglio dire, non serve chissà che formula per produrre un prodotto di questo tipo. Amo i packaging in metallo, così mi regalano un sapore un po' vintage. E gli ultimi due prodotti, datemi raria, sono Labra. E abbiamo questo, che è un prodottino di esportazione cinese. È il Color Haiti Pink Color Care Lip Cream. Ed è una sorta di burro labra colorato, ultra super emolliente. E l'ultimo prodotto è anch'esso un dupe, voi, indovinate di cosa? Questo sono curiosa di provarlo. Eccolo qua. Maxi applicatore come l'originale di NYX. Voglio vedere com'è. La profumazione non è niente di entusiasmante. La texture è molto gelatinosa, la definirei così. Bene, raga, cosa ne penso di questo Orinettemu? Sicuramente ne vale la pena per gli utensili, quindi proprio i gadget, le pinze, i gadget di questo tipo. Su questi vi consiglio di buttare un occhio, perché trovate davvero tantissimi articoli, alcuni anche molto furbi, a cui non avreste mai pensato che possono svoltarvi sull'organizzazione, su delle soluzioni pratiche, come attrezioni di questo tipo. Sì, anche prodotti per capelli, perché hanno dei prezzi davvero ridicoli, e le linee sono carine. Il mio preferito insieme all'organizer è appunto questo altro prodotto per capelli. Questo tool per fare la piega è assolutamente il mio preferito. Da cosmetterice cliente sono molto intrigata alla sezione tech, alla sezione anche giardinaggio, casa. Insomma, voglio fare un giro con più calma su Temu e vedere se c'è qualche articolo carino che può svoltare la mia routine. L'organizzazione domestica, eccetera, i prezzi sono davvero tanto, tanto convenienti, quindi perché no? Fatemi sapere che ne pensate, fatemi sapere se volete un video divertente dove magari facciamo metà faccia con i dupe makeup su Temu e contro gli originali. Fatemi sapere, può essere un video assolutamente intrattenitivo. Ditemi, avete già fatto acquisti su Temu? Vi intriga? Vi ispira come sito? Lasciatemi tutti i vostri pareri, commenti qua sotto, sapete che io vi leggo sempre tutti, tutti e super volentieri. Noi ci vediamo alla prossima, il mio augurio è sempre uno. Non scordate di starmi bene. Ciao!